Dobbiamo dare una definizione di classico e nel dare una definizione di classico possiamo azzardare che possa essere un classico anche un libro scritto sui classici. Questo è un gioco che mi fa particolarmente piacere fare, una strada che sono molto contenta di seguire perché a volte si hanno tra le mani dei libri e già si sa, si sente che quel libro ha una forza, una potenza tale per cui è difficile che dopo qualche anno quel libro possa essere dimenticato, possa essere accantonato. A me è successo quest'anno e voglio partecipare a questi incontri anche portando una scommessa perché la cosa importante di Margaret Weiss Brown è un libro che quando l'ho avuto tra le mani ho pensato oltre al fatto che era una delle uscite più belle dell'anno, questo è un libro che resterà. Gli autori sono Mac Barnett e Sarah Jacobi, sono rispettivamente l'autore e l'illustratrice e la cosa importante di Margaret Weiss Brown è il titolo tutto unito anche se può essere un equivoco, può indurre in un equivoco perché Margaret Weiss Brown è stata anche una scrittrice e quindi forse è il caso di partire da lei che è già un classico, non c'è bisogno che lo dica io perché Margaret Weiss Brown ha scritto oltre 100 libri ed è considerata universalmente la più importante scrittrice di libri per bambini e se non l'avete mai sentita nominare è perché come tutte le grandi scrittrici, soprattutto le donne ma in generale come molti grandi scrittori per bambini, magari conoscete i suoi libri, avete letto dei suoi coniglietti, avete letto delle sue storie, però le avete lette insieme ai vostri figli, le avete lette da piccoli, però non sapete qual è il nome che c'era dietro, ecco se per caso andate poi a ritroso nella vostra libreria, nella vostra biblioteca probabilmente vi capiterà di incontrare dei libri di Margaret Weiss Brown. Arriva oggi questo splendido libro illustrato pubblicato in Italia da HarperCollins a ricordarci, a spiegarci chi era Margaret Weiss Brown. Partiamo dal titolo La cosa importante di Margaret Weiss Brown perché uno dei libri importanti di Margaret Weiss Brown pubblicato in Italia da Orecchio Cervo si chiama proprio La cosa importante e si chiede, fa chiedere ai bambini che cos'è, chi è la cosa importante e conclude in maniera commovente dicendo La cosa importante sei tu. Non dirò come finisce La cosa importante di Margaret Weiss Brown perché è bello leggere gli albi illustrati con l'entusiasmo di vedere come vanno a finire fino all'ultima pagina, sono dei libri molto brevi e molto densi. Io paragono gli albi illustrati alla poesia, sono il genere più simile alla poesia che conosco e sono sempre contenta di dire che un albo illustrato è un libro. Forse è la quintessenza di un libro, non è meno di un libro, è più di un libro, è un libro in purezza perché mentre un romanzo può essere letto su qualsiasi supporto anche elettronico, un albo illustrato è fatto di scelte editoriali che passano dal colore alla carta e dall'impaginazione che comprende anche la scelta del lettering, il font, l'incastro tra le parole e le immagini non sono semplicemente buttate lì a casaccio e quindi l'albo illustrato più di tutti ha bisogno della carta. Per questo motivo è bello leggere, toccare, sfogliare gli albi illustrati e non vergognarsi di farlo anche quando si è adulti perché sono dei veri e propri oggetti d'arte. Quindi qual è la cosa importante di Margaret Weiss Brown, una scrittrice che ha detto ai bambini che la cosa importante nel mondo erano loro stessi? Lo scoprirete alla fine del libro. Il libro dicevo consta di 42 pagine e viene dichiarato subito nella prima pagina ed è importante che Margaret Weiss Brown visse 42 anni. Visse 42 anni come un anno per ciascuna di quelle pagine ma certe vite non sono soltanto brevi, sono ricchissime. La vita di Margaret Weiss Brown è la vita di una donna libera, di una donna che proprio per come era prolifica, per quanto riusciva e riesce ancora oggi a intrattenere i bambini veniva soprannominata la regina della camera dei bebè, cioè lei è la regina assoluta delle stanze dei bambini, non c'è una scrittrice che possa davvero catturarli con tanti libri e con la stessa intensità con quello ha fatto lei. Nella sua vita densa Margaret Weiss Brown ha amato un uomo e ha amato una donna e questo viene raccontato nel libro e questa nota delicata che potrebbe sembrare scioccante e scandalizzante invece molto naturale nel racconto della vita di questa donna eccettrica. Mac Barnett la scrive così, dedica soltanto un paio di frasi al fatto che Margaret Weiss Brown era una donna che sapeva amare, che amava e che amava senza distinzione nemmeno di genere, nemmeno di sesso. Era una persona particolare, ci racconta Mac Barnett, perché quando riceve i soldi per il suo primo libro pensa per molto tempo a che cosa farne e alla fine prende una decisione e la decisione è quella di fare una festa, di non comprare qualcosa di durevole, ma di comprare dei fiori e fare una festa con gli amici e questo dà l'idea di quanto questa scrittrice sapesse quanto è solido l'effimero, quanto è interessante, importante ciò che svanisce, quindi quanto nella sua mente ci fosse spazio per fantasia, sentimento, immaginazione e lei riuscisse ad andare oltre l'idea che un tavolo durava e un'amicizia no. La cosa più bella, la cosa più importante, ma non è questa la fine del libro, quando Margaret Weiss Brown decide di festeggiare un riscontro economico quindi concreto della sua attività artistica e condividerlo con le persone a cui vuole bene. Questa è già una pagina molto molto ricca, le illustrazioni come sempre avviene appunto negli albi illustrati che non sono dei libri con delle illustrazioni dentro buttate a casaccio, ma sono dei libri in cui la storia delle illustrazioni segue, ripercorre, reinventa la storia raccontata con le parole. Le illustrazioni della cosa importante di Margaret Weiss Brown ci raccontano di una donna che a un certo punto vive in una casa sulla scogliera, apre la porta, la finestra e può fare il bagno direttamente. Sono delle illustrazioni oniriche, sognanti in certi momenti, visionarie che raccontano appunto una vita breve, densa, particolare ed eccentrica. Io credo che ai bambini faccia bene leggere vite di donne eccentriche, di donne che vengono considerate fuori dalla norma di un femminile che chissà chi ha stabilito in chissà quale tempo. In realtà Margaret Weiss Brown era anche una donna molto normale, si intravede tra le righe e le pagine l'immagine di una donna schiva, di una persona che comunque amava più la compagnia del mondo invisibile che del mondo visibile. Tuttavia io credo che per un bambino possa essere importante, un po' come quando si è più grandi leggere Miss Charity di Mario de Moraille che pure racconta di una persona che sogna di diventare un'artista, di una persona che sogna di diventare un'artista e credo che sia importante per i bambini poter leggere delle storie, delle biografie di persone che hanno avuto delle vite, fatto delle scelte non propriamente canoniche. Grazie. Grazie. Grazie.